Sono qui con Donato e Denzo, gli agenti della Puglia, in occasione delle riunioni agenti di gennaio. Con grande soddisfazione la Puglia ha raggiunto il più 10% di fatturato. Nonostante un'annata particolarmente difficile dal punto di vista fruto sanitario, ci siamo concentrati su nuovi clienti proponendo i nostri tappi, che dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista delle certificazioni, della serietà della PortoCorp, l'azienda con la quale lavoriamo, ci ha dato un valore aggiunto e quindi ci ha permesso di entrare in nuove realtà che prima magari erano un posto. E tu Enzo, cosa ne pensi? Io condivido il pensiero del mio collega e devo aggiungere che la struttura aziendale della PortoCorp ci ha aiutato sicuramente nel raggiungere questo importantissimo traguardo per noi, perché comunque i competitor si sono veramente tanti. E poi con l'annata che abbiamo avuto non avremmo scommesso su questo traguardo. E diventa sempre più difficile parlare di sostenibilità perché viene spesso strumentalizzato dai nostri concorrenti, però la struttura, ripeto, aziendale, le certificazioni di cui è provvista, ci stanno effettivamente facendo raggiungere dei traguardi che all'inizio non pensavamo di raggiungere. Quindi soprattutto aggiungo anche l'umiltà con la quale noi andiamo dai nostri clienti. L'esperienza ci ha insegnato a entrare con umiltà e soprattutto ascoltare l'esigenza del nostro cliente e dopodiché proporre la migliore chiusura. E da questo punto di vista la PortoCorp è ben fornita. Attimo lavoro ragazzi! Grazie! Grazie!